Come studio per il test di medicina? Come si studia per il test di medicina? Dove si trova il materiale e come ci si prepara? Tutte queste domande me le sono fatte anche io quando ho deciso che avrei fatto il test di medicina a settembre. La prima cosa che mi è venuta in mente da fare è stata cercare su Google come prepararsi al test di medicina e poi chiedere a persone che già la studiano o che hanno affrontato il test in passato qualche consiglio a loro su come prepararsi. Sia su Google che chiedendo alle persone che l'avevano già fatto in passato la risposta è stata pressoché la stessa ovvero quella di iscriversi a un corso pensato apposta per il test di medicina perché il corso ha dei vantaggi rispetto a fare tutto il lavoro da soli. Infatti il corso organizza lo studio della teoria, come fare i quiz, vi spiega le tipologie di quiz quindi quali sono i più frequenti, le migliori strategie per risolverle e organizza tutto. Si occupa anche di tutte quelle questioni noiose che fare da soli sarebbe davvero uno sbatti ovvero cercare gli argomenti del test, le date, tutte le questioni burocratiche, come ci si scrive le scadenze. Il corso si occupa di tutto. Giusto per ricordarvelo oppure per chi di voi non lo dovesse sapere il test di medicina è un test a risposta multipla a crocette. Ogni domanda ha 5 opzioni, ogni risposta giusta vale un punto e mezzo, ogni risposta sbagliata vale meno 0,4. Sono 60 domande, in genere si hanno, se non ricordo male, 100 minuti che è poco più di un'ora e mezza e fino all'anno scorso era suddiviso in 18 domande di biologia, 12 domande di logica, 12 domande di cultura generale scusate, 10 domande di logica, 12 domande di chimica e 8 domande di matematica e fisica. Il test che dovrò sostenere io a settembre di quest'anno, il 6 settembre, non è ancora uscito il bando ufficiale ma è stato detto che avrà un minor numero di domande di cultura generale in funzione di non si sa che cosa, se più domande di biologia o più domande di chimica o più domande di logica, questo bisognerà vederlo. Comunque cultura generale ci sarà ancora. I grossi cambiamenti arriveranno dai prossimi anni, però non è questo l'argomento del video. Ora veniamo al dunque, ma di tutti questi corsi che ci sono, test buster, alfa test, promed, chi più ne ha più ne metta, qual è il migliore, quale scelgo? In base a quello che hanno fatto e mi hanno detto le persone che ho trovato su Google, sostanzialmente la scelta dei migliori sono pochi, cioè tutti fanno o alfa test o test buster in pratica. Io ho scelto test buster ma solo perché più persone me l'hanno consigliato, cioè le persone che conoscevo io nella vita reale avevano fatto quello, quindi ho detto vabbè me l'hanno consigliato loro, facciamolo. Comunque anche alfa test è validissimo. Ma come è fatto sto benedetto corso di test buster? Quello che ho scelto io, perché ce ne sono di più tipi, quello che ho scelto io si chiama intensivo pratica e rifinitura. Intensivo perché è pensato per chi arriva dalla maturità, quindi viene fatto in una settimana, 1-2 settimane, adesso non mi ricordo di preciso, d'estate dopo la maturità, quindi ad agosto, prima del test, il test ai primi di settembre. Pratica e rifinitura perché si fanno delle giornate di pratica in cui si fanno tanti quiz per argomento e delle giornate di rifinitura in cui si fanno delle simulazioni commentate, quindi delle simulazioni a tempo come se si fosse lì a fare il test, le si fa, poi vengono corrette e la correzione è commentata in modo tale che se non sapete una domanda, non avete capito una risposta o non riuscite a giostrarvela in un argomento, potete risolvere il vostro problema. Una volta iscrittomi al corso, dopo qualche giorno mi sono arrivati a casa i manuali di Testbusters che oltre al corso in presenza vi spedisce dei libri su cui esercitarvi, vi spedisce sia il libro della teoria, anche se non vi iscrivete al corso completo con la teoria, il libro degli esercizi commentati e un libro con dieci simulazioni inedite pensate apposta per gli ultimi giorni prima del test per farle e esercitarsi con quelle simulazioni, ovviamente sia gli esercizi che le simulazioni, tutti con le risposte corrette e commentate, perché è importantissimo avere la correzione delle risposte, non solo la soluzione, perché tante volte a voi non interessa sapere se l'avete sbagliato o fatta giusta, ma vi interessa sapere su quelle che siete incerte perché quella lì era quella giusta o su quelle che sbagliate perché avete sbagliato e perché quell'altra è quella corretta, questo è l'importante, quindi quando scegliete un corso, quando scegliete un testo, mi raccomando concentratevi sulle correzioni dei quesiti importantissime. Come vi ho detto prima, la teoria io ho deciso di farla per conto mio, è vero l'ho studiata sia sul libro di Testbusters, però ho detto ho tanti mesi a disposizione, alla fine una volta che hai quiz e sai gli argomenti, io ho il mio metodo di studio oramai e ho scelto di ordinare dei libri di testo di teoria delle superiori, di biologia, quello di chimica ce l'avevo ancora dal liceo e di farla da lì con calma. Inoltre, siccome avevo l'ansia che dovevo per forza passare questo test al primo colpo, ho deciso di prendere un altro libro specifico solo per i quiz di cui la gente parla molto bene su internet, non credo che esista un corso per questo manuale, il manuale in questione si chiama art quiz, questo qua, e contiene tantissimi quiz, ha 13.000 quiz. L'unico difetto che ha, se posso dire, è che non tutti sono commentati, cioè ci sono le soluzioni di tutti i quesiti, ma di alcuni quesiti non c'è la correzione. Il punto di forza però più importante di cui vi voglio parlare del corso di Testbusters è il fatto che esiste un simulatore online dove voi potete fare delle simulazioni ufficiali a tempo con la graduatoria e la simulazione è la stessa per tutti gli iscritti al corso, per tutte le persone che decidono di farle da quel simulatore. Se voi non lo sapete, il test di medicina funziona col meccanismo della graduatoria, vuol dire che non conta il punteggio assoluto che voi fate per entrare, ma conta la vostra posizione rispetto al punteggio che hanno fatto gli altri, infatti si va in ordine. Quello che ha fatto il punteggio più alto rispetto agli altri sarà il primo, il secondo sarà quello che avrà fatto il secondo punteggio più alto rispetto a tutti gli altri e i posti vengono assegnati proprio in base alla graduatoria. Quindi mentre studiate per capire com'è la vostra preparazione, se avete soltanto una simulazione cartacea, voi la fate, magari fate un buon punteggio, fate un 60, fate un 70, però non sapete se è un buon punteggio davvero perché magari è una simulazione facilissima e quindi il vostro 70 lo fanno tutti gli altri e entra solo chi fa 80 più o magari fate un 50, un 40, pensate di essere messi malissimo quando in realtà era una simulazione complicata e i punteggi sono tutti più bassi, quindi magari sareste entrati. Motivo per cui avere una graduatoria digitale, perché poi l'avete dal computer, fatta proprio come quella del test ufficiale è davvero il miglior metodo di preparazione per vedere i vostri progressi nel tempo come stanno andando. Poi dopo un po' vi farete l'occhio della difficoltà delle simulazioni dopo un po' che ne fate, cioè capirete quando un punteggio è buono rispetto alla difficoltà della simulazione che avete fatto, però soprattutto le prime volte, ma anche dopo, è molto importante avere questa graduatoria, quindi tornando sempre al discorso di come capire se un corso o un manuale sono fatti bene, le graduatorie. Se hanno dei simulatori online o su app o su computer che hanno la graduatoria ufficiale di tutti quelli che la fanno, questo è sicuramente un plus, perché io ne giovo tantissimo da questa cosa, c'erano delle simulazioni in cui pensavo di aver fatto schifo e in realtà era andato molto bene, molto molto bene, perché la simulazione era più difficile, quindi tutti i punteggi sono più bassi degli altri utenti. Simulazioni in cui invece dicevo, dai è andata malissimo, però magari gli altri mi hanno fatto dei punteggioni, perché era una simulazione facile e io non mi ero impegnato. E questo secondo me è il miglior metodo per fare progressi nella vostra preparazione. E per arrivare il giorno del test, già con la mentalità da graduatoria, già pronti al tipo di domande che possono uscire all'iter, a come funziona al tempo e quindi essere meno stressati e avere questo stress in meno vi permette di performare meglio al test, quindi aumentando le vostre probabilità di entrare, che alla fine è l'obiettivo. Ad oggi io sto andando avanti facendo una simulazione al mese, quelle caricate gratuitamente da testbusters sul simulatore di cui vi ho appena parlato, poi faccio io 4-5, oddio, anche di più simulazioni al mese pescate da me dal libro di art quiz, semplicemente vado a estrarre 18 quiz di biologia, 12 quiz di chimica, eccetera eccetera per argomento, mi faccio dei blocchi di 60 quiz, quindi creo delle simulazioni io, mi metto il timer e le faccio, poi correggo e vedo i punteggi. E in più tengo ripassate le materie in cui bisogna ricordare, ovvero biologia, perché non ce n'è biologia, dovete studiarla, ci sono dei quesiti in cui bisogna ragionare, ma si parte da una base mnemonica in cui bisogna ricordare i termini, le cose, i processi, tutte le fasi della divisione cellulare e il corpo umano, l'anatomia e chi più ne ha più ne metta. E tengo allenati anche i quiz per argomento, magari dei giorni non faccio una simulazione, non ripeto biologia, ma faccio non so 30, 40, 50 quiz di chimica e poi li vado a correggere in modo tale da tenere ripassati gli argomenti in cui faccio più fatica. Per studiare biologia il metodo che ho preferito è quello delle flashcard. Io utilizzo un'app che si chiama Anki, forse l'avete già sentita, forse no, non è importante, in cui voi potete ripetere e l'app vi tiene traccia, lei, degli argomenti che dovete ripetere e a seconda di quanto andate bene vi dilaziona nel tempo le ripetizioni, in modo tale da fare sia spaced repetition che active recall, che sono due dei migliori metodi evidence-based, vuol dire che ci sono stati dei veri studi scientifici su questi metodi per avere la massima performance in termini di ricordare le cose e andare bene agli esami, ai test, eccetera. Il miglior modo per imparare le cose mnemoniche, active recall, spaced repetition. Active recall vuol dire richiamare i concetti, la flashcard voi la vedete girata, vedete solo il titolo, magari che ne so c'è scritto divisione cellulare mitosi e voi dovete ripetere la mitosi, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, la flashcard si gira, vedete se avete fatto giusto, gli dite good, bad, medium e l'app vi riproporrà quella flashcard da ripetere, se avete fatto schifo ve la ripropone tra 5 minuti, se è andata bene tra un'ora, se è andata benissimo ve la riproporrà tra qualche giorno e così via, in modo tale che voi tenete ripassato nel tempo le cose per non dimenticarvele, per combattere la curva della dimenticanza, the forgetting curve si dice in inglese, penso che si traduca come curva della dimenticanza. Infine per vedere come vado nei mesi tengo traccia delle simulazioni che faccio su un semplice foglio excel in cui tengo traccia della data e del punteggio che ho fatto per vedere se nel tempo sto dimenticando le cose o meno. In realtà me ne accorgo meglio quando faccio le sessioni di quiz che vi dicevo prima, magari solo un giorno che faccio quiz di biologia o solo quiz di chimica o solo quiz di logica o di matefisica. Lì davvero mi accorgo degli argomenti che mi sto dimenticando da lì vado a rivederli se sono di biologia sulle flashcard, se sono di chimica li vado a richiamare velocemente dalla teoria di testbusters perché avendo già fatto la teoria sul libro del liceo quello del corso è ideale per ripassarla velocemente, la vado a fare lì e tengo questo processo lo ripeto quasi tutti i giorni per rimanere allenato e pronto per il test. Se anche voi state studiando per il test e avete qualche consiglio utile da dare, da dare a qualcuno, scrivetelo pure nei commenti qua sotto perché tutti ne abbiamo bisogno e in bocca al lupo ci vediamo al prossimo video.